Attendiamo per venerdì le comunicazioni del dirigente dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Altomonte su nuovi possibili posti in deroga recuperati che si aggiungerebbero ai 18 già assicurati per la provincia di Ragusa. Fino a quel momento l'opera di sensibilizzazione su cittadini e istituzioni locali continua senza sosta, coinvolgendo anche gli studenti per una mobilitazione generale sui problemi del mondo scolastico. E' quanto afferma Pietro Aprile del Comitato Spontaneo Precari che insieme a Enzo Figur e Giuseppe Agosta, nonostante l'interruzione dello sciopero della fame, prosegue quotidianamente la battaglia iniziata lo scorso 30 agosto con il presidio permanente di fronte al provveditorato agli studi che non si è fermato nonostante le difficili condizioni atmosferiche delle ultime 48 ore. I precari coinvolti a 21 giorni di distanza sono numerosi ed hanno proseguito l'opera di volantinaggio avviata sabato scorso per coinvolgere studenti e genitori nella mobilitazione generale sui problemi del mondo scolastico. Domani alle 9 i precari sono attesi dall'incontro con il Vescovo Paolo Urso ma lamentano tranne casi sporadici il silenzio delle istituzioni locali che a parte qualche messaggio di solidarietà non si sono ancora mossi concretamente per superare questa difficile situazione, sottolinea ancora Aprile. In attesa di risposte intanto i precari non si muovono e venerdì riceveranno anche la visita dei colleghi palermitani che fin dall'inizio si sono battuti, seppur a distanza, per motivi analoghi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.